Perchè pensiamo che la strada di università non abbia niente a riscaldare, quindi ci oppeggiamo forma a trovare la possibilità del nonicredit che non hanno tanti punti in comune a quanto si pensa, poiché, non so, non è più chiaro, un'euro in testa, l'altra è un'euro in testa, per esempio, a preparare il lavoro, mentre la banca serve a sfruttarvi, togliervi i soldi, le banche, le strade, le strade, le strade, quindi per favore, fatevi mangiare, e ragazzi, buon appetito! Leggiti, leggiti! Signori, se permettete di avere una cosa da leggere! Come studenti e precari dell'Università di Pisa, ringraziamo il nostro magnifico lettore per averci invitato oggi a questo importante banchetto per festeggiare l'avvio di una così fruttuosa partnership con un e-credit. Siamo infatti molto felici di sapere che oggi proprio noi offriamo risultati a quello che mettiamo in futuro sarà un allievo importante per la distruzione della nostra Università. Sappiamo che non è elegante nei confronti dei nostri illustri ospiti, ma dobbiamo confessare che non potevamo perderci l'occasione di vietarci 40 minuti di fila per un passo freddo alla nostra mezza. D'altra parte, come saremo tutti mancare a questo grande appuntamento? Proprio noi che si banchetti contro le banche ne abbiamo fatti tanti, in tutte le piazze dall'inizio di questa crisi. Anche se dobbiamo ammetterlo, noi eravamo più sovri. Come del resto si compa al periodo, facevamo tutto a base di uova. Riteniamo ver fardo che in un'università come la nostra, dove fare lezioni è diventato un lusso, trovare una biblioteca aperta a una scommessa quotidiana e riuscire a pagare le tasse a un vero e proprio azzardo, si decida di ospitare anche se alla cittichella un ciclo di seminari in cui chi ha distrutto questa università ora infatti c'è lezioni. Prendiamo atto per assieme di ogni poveria. Il direttore di questa prestazione è sociale, lo spazio e gli studenti per darli alle banche, ma noi ce li riprenderemo pezzo per pezzo. Ricazzo! Voi le banche!